per prima cosa separiamo le chiare dai tuorli di tre uova montiamo a neve ben ferma li mettiamo da parte e prendiamo i nostri tuorli aggiungiamo lo zucchero all'interno dei tuorli io sto utilizzando lo zucchero di canna voi potete utilizzare anche quello semolato ed iniziamo a montare aggiungiamo un cucchiaino di miele aggiungiamo la farina di mandorle prendiamo un po' di chiare aggiungiamole alle uova ed iniziamo a mescolare e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.